Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, ecco i titoli di quotidiani di oggi sulla Fiorentina. La gazzetta dello sport, commisso bloccato negli USA, sono con voi. Il Corriere dello Sport Stadio, l'Ordine di Iachini, Viola a testa alta. Tutto Sport, Viola, Spuntano Cutrone e Benassi. La Nazione, Viola all'Olimpico, è la notte degli esami. Il Corriere Fiorentino, Viola all'Olimpico, il contropiede di Beppe. La Repubblica, Viola ad attacco contro la Lazio, serve una squadra che sappia usare. Intanto questa sera il match dell'Olimpico sarà un test fondamentale sia per il tecnico Beppe Iachini, chiamato alla svolta soprattutto in quanto ai risultati e in cerca di una riconferma anche in vista della prossima stagione, sia per il bomber Patrick Cutrone, che dovrà partire titolare, avendo così l'occasione di prendere finalmente in mano le redini dell'attacco Viola, anche in vista del prossimo futuro. Per Fiorentina1.com, Lorenzo Della Giovanna Paola.